Formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, latte, farina, vino ed olio, tutto 100% italiano, di qualità e soprattutto chilometri zero. Questo infatti il contenuto dei pacchi contadini destinati alle famiglie bisognose del territorio di Castiglion Fiorentino. Sono state così le loggie del Vasari in piazza del municipio ad ospitare la consegna dei pacchi di solidarietà degli agricoltori di Campagna Amica del Comune. Col diretti si è attivata fin dall'inizio del lockdown in azioni di aiuto e solidarietà anche insieme ad altre associazioni del territorio. Questo di oggi vuole essere un gesto certo non risolutivo per le problematiche di tante famiglie che dall'oggi al domani sono trovate senza una fonte di reddito. Comunque è un gesto di vicinanza per far capire che insieme ce la possiamo fare.